Assessora, di cultura si mangia, insomma abbiamo riscoperto dei tesori prelevati dal mare? Sì, si mangia e ci si contagia anche, perché bisogna incentivare questo contagio culturale e questa fame di beni che noi abbiamo e teniamo nei cassetti. Apriamo questi cassetti e questi magazzini. E apriamo anche Palazzo Ciampoli? E' aperto Palazzo Ciampoli, è aperto, è una giornata bellissima, si può godere di un panorama mozzafiato e finalmente abbiamo qualcosa degli invisibili anche alla luce del sole. Sono reperti che non si conoscevano? Sono reperti che erano chiusi nei cassetti e nei magazzini, sono proprio un'infinitesima parte di tutto quello che c'è ancora chiuso. Che rappresentano la storia della Sicilia? Che rappresentano la Sicilia, che rappresentano la Magna Grecia, che rappresentano la Romanità e che rappresentano la cultura classica.